Sono iniziati i lavori per la sistemazione della curva nel viale Raffaele Faillagra Michele per un importo di 130.000 euro per ridurre il pericolo di incidente stradale, visto che proprio in quel tratto c'è un'uscita della scuola Ugolamalfa. Alla fine dei lavori si avrà una piazzola pedonale pavimentata antistante l'uscita della scuola ed un tratto di strada più rettilineo, quindi più visibile e sicuro.